Vice sindaco Blesioli ci sono buone notizie per quanto riguarda i due stabili di Via Tronto perché tra poco riprenderanno i lavori. Sì ci siamo veramente, abbiamo avuto un piccolo intoppo che ci ha fatto perdere due settimane di tempo dovuto al fatto che la ditta che ha precedentemente realizzato questi lavori ha fatto ricorso alla Corte d'Appello di L'Aquila nel corso del giudizio è stato nominato un CTU, questo CTU adesso deve verificare e lo farà tra il 5 e il 6 di luglio quindi veramente tra venerdì e sabato lo stato dell'immobile per alcune caratteristiche che deve riportare poi in corso di causa. Per farlo naturalmente noi dobbiamo togliere un po' d'acqua che c'è nel seminterrato, lo faremo proprio in questi giorni subito dopo verrà data naturalmente l'autorizzazione a far ripartire i lavori, se ne occuperà il consorzio Artec di Roma che ha vinto la gara è un lavoro che consentirà di completare 64 appartamenti nel complesso di Via Tronto, ex contratto di quartiere una delle incompiute storiche della città di Pescara, 270 giorni di lavoro che daranno 64 appartamenti sul cui privilegio incideranno molto le famiglie sfollate nel tragico episodio di Via Lago di Borgiano.